Opportunità per il quartiere delle piagge nell'ambito di una sperimentazione è il progetto contrasto alla povertà e alla fragilità sociale per la costruzione di un luogo di formazione interconnesso con esperienze di tirocino e opportunità di lavoro. È rivolto ai giovani e ad adulti, italiani e stranieri. È stato presentato dal consorzio sociale Martin Luther King ed ha come partner il SUNIA, il sindacato degli inquilini e la FIOM CGL. L'idea è quella di costituire a tutti gli effetti un'associazione che possa dar gambe a un progetto di inclusione sociale. C'è un abbandono scolastico significativo in tanti quartieri di Firenze e questo è uno di quelli perché abbiamo pensato non provare a mettere su un'officina. Abbiamo degli imprenditori che ci hanno regalato delle macchine utensili, un fresa, un tornio, un banco di lavoro e con i pensionati operai metalmeccanici ormai in pensione hanno lavorato una vita e si rendono disponibili a insegnare a questi ragazzi non solo a lavorare ma anche come inserirli poi successivamente nel mondo del lavoro. È un progetto che dimostra quanto la sinergia tra tutte le parti, il mondo dell'associazionismo, della cooperazione, mondo dei sindacati, possa creare quelli che sono i presupposti fondamentali per dare un futuro ai giovani, per dare un futuro professionale, per creare professionalità e dall'altra parte per mettere in contatto di differenti generazioni in modo da creare inclusione sociale.